Già da tanti anni ci siamo attrezzati, già dal 2007, perché tutta l'acqua possibile fosse destinata all'agricoltura. Sono sei gli impianti attivi che hanno dato nel 2023 1.300.000 metri cubi di acqua buona per l'agricoltura. Ora diventeranno 15 entro la prossima stagione in rigua e puntiamo a che entro il 2027 diventino 70-72 a seconda delle esigenze del mondo agricolo. Adesso dobbiamo lavorare insieme per far capire a tutti che è un'acqua buona, è un'acqua sana, è un'acqua ben gestita. Il nuovo regolamento europeo impone dei controlli severi e noi già abbiamo messo in campo per i nostri sei impianti i piani di gestione delle acque refre depurate proprio secondo il regolamento europeo, l'ultimo emanato.